lunedì 18 novembre buongiorno e ben ritrovati buon inizio settimana cari telespettatori di fano tv siete sintonizzati sul canale 17 e siete come di consueto pronti insieme a noi per sfogliare i giornali uscire di casa informati preparati su tutti quelli che sono gli argomenti più importanti chiaramente la nostra così la nostra selezione non è che sia per forza però i nostri argomenti quelli che abbiamo scelto per la rassegna stampa di questa mattina i titoli più importanti e allora andiamo a vedere però prima il santo e poi il tempo il santo di oggi in realtà è una celebrazione quella delle basiliche dei santi pietro e paolo di roma e il sole è sorto alle 7.04 sorgerà alle 7.04 e tramonterà alle 16.42 allora dicevamo il tempo anche questa è un'informazione importante soprattutto per chi si accinge ad uscire fuori di casa sapere se prendere l'ombrello oppure no diciamo di no in linea di massima se abitate sulla costa mentre se siete nei paesi di montagna e ci seguite da quelle parti forse il caso di organizzarsi e perché ci saranno brevi isolati piovaschi nei versanti occidentali appenninici per quanto riguarda le temperature quelle massime sono in lieve aumento i venti soffieranno da sud con raffiche fino a vento teso per la giornata di domani lo stesso si salva la costa mentre nell'entroterra ci saranno occasionali piovaschi nella giornata di mercoledì avremo invece il contrario nel senso che sarà la costa interessata da alcune precipitazioni soprattutto nella mattinata di mercoledì saranno precipitazioni di breve durata isolati piovaschi sulla fascia collinare e costiera per quanto riguarda le temperature avremo ancora le massime senza grandi variazioni di rilievo i venti protagonisti in questi ultimi giorni anche con forti mareggiate come vedremo tra poco dai giornali insomma saranno comunque tesi la situazione in generale e di miglioramento con bassa possibilità di residue precipitazioni allora per quanto riguarda invece la giornata di oggi tornando alle temperature diamo uno sguardo velocemente a questa griglia che ci consente così a colpo d'occhio di vedere quelli che sono quelle che sono le città più più diciamo fredde e quelle dove si sta un pochettino meglio anche perché comunque come potete vedere da fermo per esempio 17 gradi alle 14 di oggi pomeriggio insomma sono ancora temperature comunque che nel cuore della giornata sono gradevoli sulla costa 16 gradi a Senigallia 15 a Fano e Pesaro allora dicevamo delle mareggiate mareggiate già annunciate nei giorni scorsi dopo la prima forte mareggiata che ha cancellato chilometri e chilometri di spiagge su tutto il litorale allora andiamo a vedere i giornali di oggi il Corriere Adriatico apre proprio su questo aspetto anche anche l'edizione di Pesaro il mare divora tutta la spiaggia erosione fino agli stabilimenti si contano i danni a Pesaro Fano e Marotta il fiume Foglia in piena porta via addirittura le barche centro pagina oggi lunedì ci sono gli inserti sportivi non va assolutamente bene per le due squadre della provincia Fano e Vis che dolori la squadra di Pavan beffata a Reggio 2 a 1 Vis dunque che perde 2 a 1 il Granata il Fano dunque invece il Granata perdono con il Piacenza in casa per due reti a 4 e quindi non va bene nel calcio ma va ancora peggio sul parquet del VL che colleziona l'ottava sconfitta Cosevutino non ha mai vinto e adesso sono 8 come scrive il Corriere la VL cede e cade anche a Roma dopo una partita in cui fa vedere anche buone cose lasciando sperare in una sorpresa ma nel finale deve arrendersi e la classifica si fa ovviamente sempre più difficile questo è il resto del carlino invece l'edizione nazionale l'Italia fa acqua questo è il titolo questo è il Ponte Vecchio a Firenze dove l'Arno è tornato a fare paura a centro pagina invece Macerata dedica la fotonotizia a una lube stravolgente una lube straordinaria una domenica da leoni parliamo chiaramente di pallavolo la lube che travolge Modena e fugge in vetta ma ancora invece con la pagina di Marina di Montemarciano la foto onde di due metri e ancora danni a locali e case una mareggiata senza tregua a centro pagina invece l'edizione del resto del carlino di Pesaro per la VL beffa capitale a Roma perde subito Chapman regge fino alla fine poi però è costretta a cedere si parla anche delle elezioni in tutti i quartieri di Pesaro ieri in quasi poco più di 7 mila pesaresi si sono recati a votare per i rappresentanti nei quartieri i quartieri che vanno al centro-sinistra vittoria su ogni fronte compreso quello più incerto ovvero il centro storico a Fano si contano i danni ancora negli stabilimenti balneari nei camping che sono stati flagellati dall'ultima mareggiata e poi anche qua il calcio vis finale amaro il KO arriva al 91esimo Fano invece in preda ad una crisi sempre più nera e allora entriamo nelle pagine interne perché a Cagli un uomo è rimasto un anziano di 87 anni è finito in un dirupo con la sua ape rimasto in leso ma si è salvato anzi è stato salvato dai carabinieri dopo 4 ore sotto la pioggia abbattente e il freddo si chiama Mario Truffa 87 anni grande invalido che sta a smirra di Cagli con una gamba sola l'altra sera alle 22.30 è rimasto pressoché illeso malgrado il volo di 15 metri nel fossato lungo la strada per il Monte Petrano mentre si trovava la guida del suo ape car e ha rischiato di morire più per il freddo che per altro queste sono le fotografie che tra l'altro ieri sera abbiamo pubblicato anche noi sul sito occhialanotizia.it torno alle 9 di sera grazie ad una cella telefonica i militari lo hanno localizzato sul Petrano e hanno portato al Cagliese i primi soccorsi anche il Corriere Adriatico su questa notizia di cronaca titola così era finito fuoristrada sul Petrano salvato nella notte dai carabinieri l'allarme 4 ore dopo l'incidente un Cagliese di 67 anni trovato nella Scarpata incastrato nell'abitacolo localizzata all'ultima cella telefonica agganciata in un tornante notato hanno notato un segno sull'erba e quindi sono andati poi a colpo sicuro questa è la notizia sul Corriere adesso apriamo invece la pagina di Fano queste fotografie che rendono subito l'idea del disastro che ha provocato la mareggiata di ieri una nuova eccezionale mareggiata a 4 giorni dalla precedente infiltrazioni negli stabilimenti Sassogna e Arzilla gravemente colpite pesanti danni sulle spiagge di Torrette e di Ponte Sasso tra gli operatori c'è rabbia e anche disperazione un fenomeno di questa gravità non si vedeva più da almeno 10 anni ma ci sono anche non solo le spiagge che con la pioggia hanno con il vento e il mare in burrasca hanno provocato disagi anche nell'entroterra questa è una frana sulla strada delle Cesane dove sono caduti dei massi l'asfalto è seriamente ammalorato l'arteria dunque va messa in sicurezza Fano camping e stabilimenti sott'acqua il resto del Carlino l'ennesima mareggiata lascia il segno lungo la costa fino a Marotta danni nei locali balneari raffica di interventi per i pompieri i più colpiti Animalido e alcuni stabilimenti di Sassogna tra cui Bagni Maurizio e il maltempo non ha creato eccessivi problemi a Pesaro anche questa volta quasi schivata dalla pioggia battente il mare aggredisce la pista ciclabile ma c'è addirittura chi ne approfitta per fare un bagno il mare è sempre più minaccioso a Marotta l'erosione alla base dei chioschi non c'è più la spiaggia tra l'hotel Europa e piazza dell'unificazione rabbia e allarme per degli operatori risparmiato il litorale dotato di scogliere un pescatore dice questi eventi sono sempre avvenuti mentre sotto il sindaco di San Lorenzo in campo dell'Onti dice notizie false su Fileni dell'Onti annuncia preannuncia un'assemblea con tutte le informazioni precise su questo progetto sapete Fileni vuole costruire un grande impianto un grande capannone per l'allevamento dei polli nel comune di San Lorenzo in campo per quanto riguarda la pagina di Pesaro sul maltempo il foglio in piena supera i pontili la foce otturata presenta adesso il conto per far defluire l'acqua aperta anche alla diga di Mercatale ma rami e detriti continuano ad accumularsi violenta mareggiata sotto monte le onde hanno invaso l'acciclabile portato via la spiaggia e le attrezzature Carlo Trebbi dice torniamo a chiedere alla regione comune di avviare la pulizia a monte nei tratti più critici poi c'è una protesta segnalata sul Corriere di questa mattina strada panoramica chiusa che inutile provvedimento nulla di più inutile della chiusura domenicale ieri mattina della strada panoramica e ordinizza su Facebook Andrea Rignoli il ristoratore di Castel di Mezzo la grande intuizione di chiudere il San Bartolo alle auto sta dando i suoi frutti non ci vuole un genio per capire da adesso a marzo il parco sarà morto e sepolto o disgraziatamente un ristorante aperto e le scadenze di novembre dice in effetti insomma forse sarebbe più intelligente chiuderlo quando viene voglia di passare sul San Bartolo con la macchina anche in primavera piuttosto e quindi lasciare spazio a chi va in bicicletta piuttosto che o farlo d'inverno quando insomma in bicicletta ci vanno un po' meno persone Siamo sempre sul Corriere Vasca a desondazione si parte Biancani annuncia lo stanziamento di 4 milioni di euro e l'avvio dei lavori il primo intervento nella zona di Torraccia il genio civile ha già dato l'ok 12 quartieri su 12 centro-sinistra cannibale nel senso che vince vince in larghissima misura una vittoria targata PD il centro-sinistra si conferma campione assoluto anche per i prossimi 5 anni tutti i 12 quartieri cittadini saranno a trazione PD le elezioni infatti dei consigli di quartieri che si sono svolti ieri sono andati si sono concluse con la vittoria in tutti i seggi della lista che portava questo nome quartiere Pesaro quartieri Pesaro un gran bel po' espressione del PD e delle liste civiche che hanno sostenuto Matteo Ricci provoca e siamo sulla pagina di Senigallia un frontale poi scappa lo trovano nei campi dopo tre ore sciocca Corinaldo un trentenne finisce nei guai ma non aveva mai preso la patente ed è rimasto nascosto in mezzo in un campo per quasi tre ore questo trentenne di Castelleone di Suasa che è scappato dopo aver causato un incidente aveva abbandonato l'auto con l'amico a bordo che gliel'aveva prestata e altri tre feriti nell'altro veicolo coinvolto anche lui aveva riportato delle lesioni ma è praticamente rimasto nascosto fino a quando i carabinieri l'hanno scovato poi è emerso che non aveva mai preso la patente di guida per questo motivo era fuggito a piedi siamo e torniamo sulla pagina di Fano premiate le eccellenze dell'enogastronomia ieri è stata inaugurata la edizione di sapori e aromi d'autunno al Codma di Rosciano di Fano nonostante il maltempo un centinaio di espositori provenienti da tutte le marche un riconoscimento anche ad Anna Bracci per la staffetta del Bianchella ereditato da Sara Sara Bracci condanna definitiva invece la cronaca c'è l'ordine di arresto un marottese colpevole di stupro e rapina poi tanti controlli test anti alcol insomma c'è tutta l'attività dei carabinieri della compagnia di Fano di questo ultimo fine settimana anche qua su Pesaro il Corriere e le elezioni nei quartieri un gran bel posto si prende tutto parco e colline grandi elettori pranzo della Caritas l'occasione che apre i cuori oltre 160 persone alla mensa di via del teatro a Pesaro insieme a Tavola pesaresi e anche gente insomma i poveri sulla qualità della vita però la provincia di Pesaro Urbino perde dei punti addirittura 16 rispetto al 2018 questa è un'anticipazione che fa il giornale su una classifica un report che potrete trovare con tutti i dettagli su Italia Oggi ed è una classifica che per qualcuno potrà lasciare il tempo che trova ma comunque sono classifiche che fanno riflettere che cosa è successo innanzitutto va detto che Macerata in tutta la regione Marche diventa dunque la prima provincia marchigiana per qualità della vita e a livello nazionale occupa il diciannovesimo posto in Italia i parametri rispetto all'anno scorso sono cambiati i parametri per definire la qualità della vita in tutta Italia in queste città sono cambiati e quindi sarà interessante vedere che cosa ha determinato il calo di tutte le province per esempio marchigiane Ancona che svettava fino all'anno scorso al dodicesimo posto quest'anno scende al ventisettesimo Pesero che dal posto numero 35 del 2018 perde 16 posizioni e dunque scende al numero 51 la più bella d'Italia nel senso a livello qualitativo dove si sta meglio per Italia oggi è la città di Trento che dunque svetta come reginetta d'Italia alla ricercatrice dei pianeti Francesca Faedi il premio città di Staffolo 2019 è un ennesimo riconoscimento per l'astrofisica monbaroccese che è anche orgoglio chiaramente di tutta la regione attraverso la sua attività di ricerca Francesca ha scoperto e pubblicato più di 60 esopianeti non appartenenti al sistema solare tra cui il super mercurio e in questo campo è una dei pochi ricercatori al mondo colpito da malora invece il sindaco Nicolucci sindaco di Apecchio c'è stata paura e ansia per le sorti del sindaco Vittorio Nicolucci che dopo un malore è stato ricoverato all'ospedale San Salvatore di Pesaro sabato pomeriggio intorno alle 3 terminato il lavoro in comune Nicolucci si era recato nello studio di commercialista di Fossombrone per fare svolgere un po' di lavori però quando ha raggiunto la sede si è improvvisamente sentito male e si è rivolto all'ospedale di Fossombrone poi è stato immediatamente portato a Pesaro dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico cardiologico le sue condizioni ora sono stabili però come ovviamente accade in questi casi bisognerà adesso starsene tranquilli a riposo e il sindaco dovrà delegare qualcuno per un po' di tempo e far fare il lavoro di sindaco a qualcun altro poco prima per partire scrive il giornale per Fossombrone si era intrattenuto invece fuori dal suo ufficio scherzando con amici e conoscenti andiamo velocemente a vedere le pagine che pubblica oggi sull'edizione di Pesorbino il Corriere questa è Iesi in partenza lavori per 10 milioni ma il Ponte San Carlo resta in panne Baccia annuncia i cantieri sui social l'opposizione in calza il Corso può aspettare priorità al Cavalcavia multe ai commercianti il Comune non fa dietro fronte la beffa delle sanzioni per la pubblicità sui totem però non sarà dovuto nulla Osimo il Comune si inventa una strada fantasma Via della Speranza Residenza dei Clochard e poi Mengoni che chiude al Vitrifrigo di Pesaro con un pubblico da record un concerto ieri sera spettacolare un evento dalle grandi suggestioni due ore di musica tanta energia tanta gente tantissima come non se ne vedeva da tempo con oltre 8 mila presenze un successo con ben pochi precedenti al Palazeport di Pesaro per questo concerto il concerto di Marco Mengoni e una tappa quella dell'Atlantico on tour le pagine sportive invece la serie nera della VL non finisce qui la Carpegna Prosciutto resta in gara sino alla fine ma a Roma arriva l'ottava sconfitta stagionale Virtus Roma che vince dunque sulla Carpegna Prosciutto 92 a 83 adesso serve una svolta invece per il Fano parla il direttore generale Bernardini che conferma l'allenatore Fontana ma chiede un cambio di passo a tutta la squadra è ovvio che l'ingegno espulsione di Ricciardi ha pesato giocare 70 minuti in 10 è stato difficile per il direttore generale intanto il mister finisce nel mirino della tifoseria fanese dai complimenti ad inizio campionato si è passati alla richiesta di esonero il Fano resta dunque nel tunnel sesta sconfitta consecutiva per i Granata sempre più isolati nell'ultimo posto in classifica il Piacenza sblocca subito poi Canis pareggia ma l'espulsione di Ricciardi complica praticamente tutto il Fano che perde in casa contro la squadra del Piacenza per 4 reti a 2 tra l'altro c'erano anche una novantina di ospiti da Piacenza in tutto circa 900 persone allo stadio Mancini di Fano ma non è andata bene neanche per la vis che ha Reggio perde 2 a 1 quindi fuori casa la Reggio Audace firma il gol del pareggio al 73 e poi al quarto minuto del termine Tessiore si mangia il 2 a 1 a tempo scaduto Carbo sfrutta una disattenzione difensiva e costringe i Biancorossi alla resa l'altra pagina è tutta dedicata alle parole del mister Pesarese traditi dagli episodi l'analisi del tecnico Biancorosso dice certe occasioni vanno sfruttate loro lo hanno fatto noi invece no ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla ma sicuramente un po' di rabbia per il K.O. rimane e questa è la pagina appunto del Corriere Adriatico Corriere Adriatico che visto che abbiamo ancora un minuto apre con il mare in Burrasca che ha divorato tutta la spiaggia erosione fino agli stabilimenti si contano i danni a Pesaro Fano e Marotta il Favoglia in piena porta via le barche poi sotto fuoristrada sul Petrano questo è il titolo in prima pagina salvato dai carabinieri un anziano di 87 anni Mario Truffa di Caglia è rimasto lì 4 ore bagnato e mezzo congelato e se è ancora vivo lo deve alla sua fibra robusta ma anche alle capacità dei carabinieri che l'hanno cercato e trovato nella notte in una scarpata del Petrano a 15 metri dalla strada dove era finito la guida del suo motocarro un apecar e quindi insomma può raccontarlo questa è invece la pagina del resto del Carlino la pagina nazionale l'Italia fa acqua SOS Arno e Reno in piena molte le persone evacuate andiamo a vedere velocemente la pagina di scusate di Pesero del resto del Carlino VL Beffa capitale poi tanto sport la politica i quartieri vanno al centro sinistra ieri come abbiamo visto ci sono ci sono votate ci sono state le votazioni in tutti i quartieri ha vinto il centro sinistra poi gli stabilimenti balneari anche a Fano compresi camping flagellati dalle mareggiate e questa insomma è la prima pagina del resto del Carlino l'edizione di Pesero noi ci fermiamo qui per quanto riguarda la selezione delle nostre notizie più importanti vi ricordiamo come sempre che c'è il nostro numero di telefono che vedete adesso in sovraimpressione per i vostri messaggi anche con Whatsapp potete inviarci foto video e messaggi messaggi che potrete utilizzare anche questa sera nel corso della diretta di Primo Cittadino questa sera avremo come ospite il sindaco di Fermignano quindi tutti coloro che ci seguono e che risiedono nel comune di Fermignano possono fare domande al sindaco nella trasmissione che inizierà subito dopo il telegiornale delle 20 e 30 a voi tutti l'augurio di una buona giornata arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti